Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Marco e oggi vi farò vedere come scaricare le applicazioni a pagamento sul vostro Play Store in modo totalmente gratis. Dove non c'è nessun virus, non c'è praticamente niente. Ok, questa applicazione si chiama Aptoide. Vedete in alto a destra? Si chiama Aptoide. Come faremo a scaricare Aptoide? Non possiamo scaricarle sul Play Store perché l'hanno tolto, non so perché. Però dovremmo andare su internet, cercare Aptoide Download. Aspetta, aspetta, ho sbagliato. Eccolo, Aptoide, Android App Store. Andiamo qui e ci uscirà questo. Adesso voi potrete andare qua e scaricare delle applicazioni oppure installarla. Perché io l'ho installata? Perché a volte c'è un virus e la scaricate qua. Ma se noi clicchiamo su Install No, lui la scaricherà e la installerà automaticamente. Ok, dopo aver fatto questo, entrate nel vostro Aptoide. Anzi, prima andiamo a vedere qualche applicazione che ha pagamento sul Play Store e andiamo a cercarla su Aptoide. Più vendute. Ok, Monopoli e Minecraft. Poi c'è Geometry Dash. E ora andiamo a cercare questi 3. Ok, scriviamo. Per esempio, Minecraft Pocket Edition. Ed eccolo. Ed è uguale come quello di il vostro Play Store. Se ci sono le... No, non ci sono. Non ci sono le foto, però vi assicuro che è uguale. Basterà andare qua su Installa. E lui installerà l'applicazione. Ok, andiamo a vedere Monopoli. Perché voglio far vedere... Perché adesso sto cercando così tanto... Ecco. Non c'è Monopoli quello che era sul... Sul... Sul Play Store. Però ce ne sono altre. Adesso vi faccio vedere se, per esempio, voi... Cliccate... Cioè, cercate... Ecco. Ecco Monopoli. E cerca in altri store. Cliccate qui. Fate in Internet. O in Google, dove volete. Vado sempre in Internet. E lui vi troverà automaticamente l'applicazione. Ed eccola. E' questo qua, Monopoli. Quello che era... Su... Eccolo. Vedete? E' uguale. Basterà andare su Installa. E' la stessa cosa come nell'applicazione. Ok. Torniamo... Su... Android. Clicchiamo Geometry Dash. Eccolo. Eccolo. Ed eccolo. Ah no. Queste sono le teme. Aspettate. Cerca in altri store. Vi uscirà sempre questo. Cerca in altri store se... Ci sono tutte le applicazioni di Geometry Dash. E lui vi porta su Internet. O su quello col dove avete schiacciato. Ed eccolo. Geometry Dash. Tutte le Geometry Dash che... Quante ce ne sono. E voi scaricate quello che volete. Gratis. Ok ragazzi. Per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E... Ciao a tutti. Ciao a tutti.